Ho visto gente che non ha davvero bisogno di presentazioni per inserirsi nelle mie faccende personali, dice che devono salvare, che mi devono aiutare a vivere come secondo loro pare. Ho fatto un sogno e ho visto qualcuno che andava in giro col bicchiere in mano e risolveva tutti i problemi, con dei calci alle illusioni, con dei calci alle illusioni.